incredibile ma vero da archiviare colpo impossibile lui getta la racchetta e va a casa perché a questo punto cosa posso fare se non venire a stringerti la mano e a dirti grande signore del tennis a te rendo mangio questo penso che sia il colpo più spettacolare che abbia mai visto guardate non è nemmeno immaginabile bilancia la racchetta vado a casa mi ritiro